ciao ragazzi e ben ritrovati al giovedì con il consigliato da carfishing online oggi marchio ness ancora una volta perché ness in questo periodo ha tanti prodotti che secondo me meritano di essere consigliati e tra parentesi all'appro velocemente guardatevi tutto il video perché all'interno troverete un codice sconto che lo potete utilizzare da sabato ore 20 fino a lunedì alle ore 10 per ottenere un 10 per cento di sconto sui vostri ordini online a marchio nesh quindi non solo quello che ho portato all'interno del consigliato di oggi ma tutto quello che all'interno dello store è a marchio nesh bene ora partiamo con questo prodotto la settimana scorsa nel consigliato vi avevo portato all'interno un best seller di casa tracker il two piece e dopo vi ho anche menzionato il three piece winter suite il cr che è il modello aggiornato nuovo per la stagione 2022 2023 mi sembrava anche utile poter acconsigliarvi anche poi uno scarponcino invernale adatto per essere utilizzato assieme al al completo invernale di casa tracker o è tutto il completo invernale che voi comunque penserete e vorrete utilizzare nelle vostre sessioni di pesche invernali ed è il z polar boots cioè lo stivaletto invernale di casa nesh allora particolarità intanto di questo stivaletto ve l'assicuro vi manterrà i piedi caldissimi proprio la sua il suo punto di forza stata proprio in questo e siccome ben lo sapete che fare sessione di pesca con i piedi sempre freddi è veramente una tribulazione ecco che con questo prodotto che io adesso vi sto consigliando il problema non lo avrete più lo avrete risolto proprio perché all'interno il vostro piede la vostra caviglia sarà veramente al caldo è dotato di una parte sottostante in gomma questa vi consente di poter camminare all'interno delle pozzanghere o del della terra bagnata quindi con del fango e avrete una parte in gomma che oltre a darvi impermeabilità quindi non vi farà passare acqua e quindi non vi interrà il piede bagnato ma al contempo anche sarà facilmente pulibile attraverso una spugna attraverso dell'acqua proprio perché non essendo tessuto si lava molto più facilmente è dotata di questi laccetti fatti con questi occhialini in metallo proprio perché possiate veramente tenervelo stretto alla vostra caviglia e alla vostra diciamo al vostro piede per darvi proprio uno scarpone saldo in modo che possiate correre o affrontare dei terreni sconnessi senza che piede all'interno si muova è abbastanza alto quindi protegge molto bene non solo il piede ma anche tutta la caviglia e la parte sottostante della gamba e diciamo che anche una suola che vi permette eccola qua di poter camminare anche su terreni più impervi veramente questo prodotto qua io me lo proprio me lo sento di consigliarvelo veramente a tutti coloro che hanno bisogno di una calzatura invernale per poter affrontare tutte le vostre sessioni di pesca invernali poi ho pensato una cosa siccome le sessioni invernali possono essere fatte in giornata ma generalmente c'è chi punta a fare anche una o più notte in pesca durante il periodo freddo e quindi l'uscire ed entrare dalla tenda con lo scarponcino soprattutto nella negli orari notturni quelli dedicati magari anche a delle ore di riposo sicuramente vi toglierete lo scarponcino e se vi vorrete muovere all'interno di una tenda o soprattutto di un gazebo senza camminare scalzi la Ness ha fatto queste pantofoline in con un pelo dentro che vi mantiene il piede caldissimo e sono molto confortevoli perché sono tutte quante elasticizzate e soprattutto hanno pensato quelle di Ness è una cosa che trovo utile fare questa suola in gomma perché nel caso abbiate una partenza improvvisa avendoci già intorno potete uscire dalla vostra tenda e camminare sul terreno perché la parte in gomma vi proteggerà e vi manterrà il piede asciutto e questa è la bivi slippers la camo deluxe bivi slippers quindi lo dice la parola stessa proprio una una calzatura da vivere all'interno del vostro bivi gazebo riparo tutti questi prodotti li trovate disponibili alla sezione abbigliamento calzature a marchio Ness e se vi sono piaciuti e vorrete acquistarli con una scontistica ormai sarà già comparso lo poi il codice sconto utilizzatelo per ottenere il 10 per cento di sconto su questo su tutti i prodotti di marchio a marchio Ness ma vi ricordo che avete tempo soltanto da sabato alle ore 20 a lunedì alle ore 10 io con questo vi saluto vi rimando a giovedì prossimo like al video se vi è piaciuto appuntamento giovedì prossimo ciao 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 ciao